Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per le lezioni di algebra di oggi andremo a vedere l'addizione algebrica di monomi. Nell'ultima lezione abbiamo visto appunto che cos'è un monome, quindi abbiamo visto come identificare tra le varie espressioni letterali quelle che sono monome e quelle che non sono monome. L'obiettivo della lezione di oggi sarà invece essere in grado di identificare monomi simili, a breve vedremo cosa significa questa parola simili riferito ai monomi, e infine calcolare la somma di monomi simili. E' semplice perché noi diremo che due monomi sono simili se hanno la stessa parte letterale. Allora, se noi andiamo a ricordarci la lezione precedente, le due parti che compongono un monomi, ovvero il coefficiente e la parte letterale, ecco, quando andremo a parlare di monomi simili noi non ci interesserà il coefficiente, quello ci interesserà nel momento in cui andremo a fare le operazioni, ma ci interesserà la parte letterale. E quando si dice che la parte letterale deve essere la stessa, noi vogliamo dire che deve contenere non solo le stesse lettere, ma con lo stesso esponente. Qui si vede molto chiaramente due esempi. Consideriamo questi due monomi, no? 3a, 3 è il coefficiente a alla parte letterale, e un altro monomio che è meno 5a, dove meno 5, vi ricordo che anche il segno fa parte del coefficiente, meno 5 è il coefficiente letterale. Ecco, questi due monomi sono simili, perché? Perché hanno la stessa lettera, ha la stessa potenza, in particolare ha la prima potenza, e vi ricordo anche quello che abbiamo visto la lezione scorso, ovvero come si definiva il grado di un monomio. Questo è un monomio di primo grado rispetto alla lettera A e di primo grado complessivo. Se invece andiamo a vedere questi due altri monomi, un mezzo x e 7x alla seconda, ecco, in questo lato noi diremo che non sono simili, perché contengono sì la stessa lettera, hanno tutte e due la x, ma qui la x è la prima potenza, invece qui la x è la seconda potenza. E questo ci vuol dire che questi monomi non sono simili. E questo sarà molto importante distinguere tra monomi simili e monomi che non sono simili, perché solo i primi potranno essere sommati. E ora vediamo subito un esempio di come si sommano dei monomi simili. Ecco, consideriamo questo primo esempio, 7mn più 12mn. Notate come ho scritto in blu il coefficiente e in rosso la parte. Ecco, la cosa interessante, quello che rende l'addizione tra monomi molto semplice, è che la parte letterale rimane così com'è, vedete, mn, mn, mn. E cosa faccio? Vado a sommare solo i coefficienti, quindi 7 e 12. Questo passaggio, solo per farvi una, ma normalmente non c'è bisogno di farlo, uno lo può fare a mente e arrivare direttamente al risultato, che in questo caso è 19. Quindi il risultato della somma di 7mn con 12mn è 19mn. Lo stesso si può fare in quest'altro esempio. Qui ho usato anche un monomio con un coefficiente negativo, vedete, meno 5ab alla seconda più 8ab alla seconda. Si procede come nel caso precedente, quindi si riscrive ab alla seconda pari pari e si sommano, come si dice, noi sommeremo algebricamente. La somma algebrica è una somma tra numeri positivi e negativi. Meno 5 con più 8 e il risultato è 3. Potrei anche scrivere più 3, però insomma nel caso di un numero positivo il segno si può omettere, sotto intendere, come si dice. Ora, da questi due esempi possiamo ricavare la regola generale, che a questo punto è quasi più complessa da scrivere che da fare. Però leggiamole insieme e cos'è anche importante, insomma, da mettere nella parte di teoria dei propri appunti. Allora, leggiamo insieme. La somma algebrica di due monomi simili, ora vedete, io ho fatto esempio un 2, ma poi noi vedremo insieme che questa regola si può applicare alla somma 3, 4, di quanti monomi vogliamo, purché essi siano simili. E cosa sarà il risultato? Sarà sempre un monomio, che avrà la stessa parte letterale dei due monomi sommati, o dei 3, o dei 4, o dei monomi che andiamo a sommare. E il coefficiente cosa sarà? Il coefficiente sarà la somma algebrica dei coefficienti dei due monomi sommati. Ora mi devo anche un po' scusare con voi, perché anche leggendo questo testo vedo che ci sono non uno, non due, ma ben tre errori di ortografia. Manca una in qui, manca un'altra in qui, e c'è un'altra parola che ho scritto male, però questo lascerò a voi identificarla. La lezione è finita qui per oggi, è stata molto breve, ci vediamo alla prossima volta. Tanti saluti da Mr. Boscherini.